Puntare alle facoltà generaliste in grado di intercettare un bacino maggiore di studenti e sviluppare accordi anche con università diverse da Palermo. Questi i primi due ingredienti su cui punta la strategia di rilancio dell'Università di Agrigento del suo neopresidente Pietro Busetta, nella ricetta che vuole garantire il diritto allo studio e fasce sociali deboli della provincia, anche specializzare le compaggine universitarie agrigentino su archeologia, mediazione culturale e ingegneria agroalimentare. Dunque è importante che il consorzio agrigentino mantenga un'offerta formativa anche simile a Palermo per quanto riguarda le macro aree le più comuni, in modo da non costringere i giovani studenti del territorio, specialmente chi non è alla forza economica, a dover emigrare nel capoluogo. Poi intercettare studenti da fuori per percorsi di laurea particolari e pertinenti alla città di Agrigento. Obiettivo del neopresidente del CUA anche ampliare la base societaria. Busetta ha delineato questi punti in un incontro con il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, ma ha anche voluto stringere la mano al direttore dell'ente Parco, Valle dei Templi, per programmare una convenzione tra due enti. Saluta positivamente l'insediamento del neopresidente Busetta alla CNA. Il presidente della sede provinciale della Confederazione, Mimmo Randisi, in una nota stampa scrive Una guida esperta, competente e autorevole, saprà certamente lasciare il segno nella realtà accademica agrigentina. Riteniamo, continua Randisi, che affidargli il timone sia stata una scelta di qualità. Offriamo piena disponibilità per un rapporto di positiva collaborazione legata alla dimensione del fare, che va recuperata e messa a frutto, ed appartiene al patrimonio degli artigiani e della piccola e media impresa. Conclude Randisi.